Che bello, oggi è la festa di tutti i papà e tutti i nostri papà che ci hanno generato la vita e che magari abbiamo ancora la gioia di avere qui in terra, ma è anche la festa di papà che sono in cielo, che non ci sono più, è la festa di papà spirituali, è la festa di tutti i papà e tutti i papà si rifanno proprio a questa figura di Giuseppe, perché Giuseppe è stato un papà forte, generoso, è stato un papà che ha fatto delle scelte, ha dovuto prendere delle scelte molto importanti e le ha prese con coraggio, con coraggio ma soprattutto nell'ascolto. Giuseppe è un uomo che, andando a guardare i Vangeli, credo sia forse, se non l'unico, uno degli unici personaggi del Vangelo che non dice una parola, Giuseppe semplicemente fa, Giuseppe opera, Giuseppe ascolta ed opera, Giuseppe non dice una parola, non dice un ma, non dice un timore, ma Giuseppe opera e certo Giuseppe secondo la legge doveva appunto lasciare Maria perché questa storia dello Spirito Santo ovviamente non era una cosa così semplice da comprendere, ma Giuseppe si mette in ascolto, Giuseppe non guarda alla sua vita ma alza lo sguardo verso il cielo e riceve questo sogno, Giuseppe fa di quel sogno il luogo in cui può incontrare Dio, Giuseppe figlio di Davide gli dice l'angelo del Signore nel sonno non temere di prendere con te Maria perché il bambino in lei viene dallo Spirito Santo e questo angelo dà anche lui questa parola di speranza, dà anche lui questa novità, guarda Giuseppe che è tutto vero, Giuseppe dentro quella cosa lì c'è una vita che tu non conosci e la cosa che a me è sempre colpito è questo, quando si destrò del sonno Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e poco più avanti continua prese su di sé Maria, con sé Maria, è proprio un fatto molto paterno questa cosa qua, prendere su di sé, Giuseppe prende su di sé le sue responsabilità, prende delle scelte ma mai da solo, sempre in ascolto di una parola molto più grande di lui, della parola del Signore. Allora le nostre scelte diventano ben pensate, ben realizzate, quando ci mettiamo in ascolto, quando anche in situazioni più improbabili ci mettiamo in ascolto di una parola che è di fronte a noi, se ci mettiamo in ascolto della parola di Dio che sta di fronte a noi, certamente questa farà verità e luce dentro di noi e ci permetterà di prendere le scelte giuste anche nelle situazioni più improbabili. E qua bisogna provare per credere, ma soprattutto chi ci ha già provato, chi sa che la parola di Dio è così potente, sa che non c'è altro mezzo che non la parola di Dio. Allora mettiamoci anche noi in ascolto proprio di questo Signore e lo vogliamo veramente ringraziare di cuore, perché in Giuseppe dona a tutti i nostri papà di essere forti, generosi, miti, silenziosi, come talvolta sono anche i papà, ma sempre in grado di intravedere un po' più in là. Ecco Giuseppe è quest'uomo che nell'ascolto della parola riesce a guardare oltre, a guardare anche dove la natura delle cose dice totalmente il contrario. San Giuseppe prega per noi, veramente San Giuseppe aiutaci a guardare oltre in questo momento e soprattutto benedici e proteggi tutti i nostri papà.